Per Fabio Passeri l'arte è sempre stata una fedele compagna di vita. Nasce a Monno, comune della Val Camonica, nota per le meraviglie della natura e per l'amore di incisioni rupestri lì presenti. I sentieri, le cime, i boschi che circondano il suo paese sono per l'artista fonte di pace e di ispirazione. L'amore per la vita e la devozione per la natura e il creato non solo caratterizzano la sua produzione, ma sono anche il motore che muove la sua intera esistenza. La sua cifra stilistica in pittura si evolve abbracciando diverse correnti d'avanguardia che mostra di conoscere e di aver fatto proprie, manifestandole sulla tela secondo la sua peculiare maniera. Questo astratto informale mi dà la possibilità di spaziare, di descrivere anche universi lontani, immagini molto fantasiose che mi danno la possibilità di costruire un messaggio attraverso l'opera. Rintracciamo degli echi di futurismo, di astrattismo geometrico e di optical art, ma mai scimmiotando, mai ripetendo, anzi, imprimendovi il proprio idioma che lo distingue e lo rende immediatamente riconoscibile. Da una stilizzazione delle forme all'approccio geometrico, la sua lettura della realtà viene filtrata e trasposta su tela attraverso un uso attento del colore. Bagliori, sfumature e trasparenze dialogano attraverso il segno e la luce per descrivere un'emozione che, come in un caledoscopio, moltiplica ed amplifica gli effetti cromatici. Sfere, semicerchi, linee e fasci di luce si susseguono creando un ritmo a volte armonioso, altre volte incalzante, attraverso cui l'artista compone strutture visive che si impongono all'attenzione di chi le osserva in modo immediato, cristallizzando un attimo, come una folgorazione che si traduce in visioni di atmosfere cosmiche descritte in un susseguirsi di tinte cangianti e preziose, atte a rendere la meraviglia dell'universo. Fabio Passeri non lascia mai nulla al caso. Ogni pennellata è meditata, impregnata dal suo innato e raffinato senso dell'armonia. Questo equilibrio ci offre opere impreziosite da un'inafferrabile magia, quasi fossero delle mappe alchemiche, ma che in realtà traggono ispirazione proprio dal nostro divino cosmo. L'arte per me è l'unico modo che abbiamo per lasciare traccia di noi su questa terra ed è un modo speciale di comunicare tra gli individui. La pittura è per Fabio ricerca costante, è un approdo sicuro, è riverenza per il divino e voglia di vivere con consapevolezza ed intensità esperienze ed emozioni positive che prendono vita attraverso colori e forme sulle tele, offrendo opere capaci di catturare la nostra attenzione e di attrarci nel gioco emozionale in cui viaggia anche egli.